Sono servite nove ore di discussione al Consiglio Comunale di Barletta per approvare con 21 voti favorevoli il bilancio di previsione 2019-2021. Quella della massima assise consigliare della città della disfide è stata una seduta intensa, non priva di polemiche e forti scambi di vedute, ma alla fine ha certificato il raggiungimento di un obiettivo, quello dell'approvazione del bilancio prima della fine dell'anno solare, cosa non scontata negli ultimi anni a Barletta, più volte ribadito dall'amministrazione Cannito. Inevitabile la soddisfazione della maggioranza che pare, dopo i burascusi primi mesi di amministrazione, aver trovato la necessaria coesione. È un bilancio importante per questa città perché abbiamo una particolare attenzione per quelle fasce più deboli della città, per quelle situazioni particolari quali disabili, perché voglio ricordare che abbiamo impegnato 5 milioni e mezzo di euro per il piano sociale di zona proprio a favore di questi soggetti con delle nuove missioni. Però voglio anche ricordare la particolare attenzione a parchi, giardini, al verde, dove abbiamo impegnato ulteriori 200 mila euro per la digitalizzazione, perché si possa avere un più facile accesso a quelli che sono i servizi della città. Quindi complessivamente è un bilancio migliorativo della vita della città, della vita dei cittadini di Barletta, che è stato il primo interesse che ci ha portato ad approvare questo bilancio. Diametralmente opposto il giudizio espresso sul proverimento dalle opposizioni. Numerose nel corso della seduta sono state le questioni sollevate dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Coalizione Civica, assente invece Flavio e Basile della Lega. Prime fra tutte quelle relative all'aumento generale della tassazione comunale, in particolare dell'IRPEF, della scarsa chiarezza circa il piano trenale delle opere pubbliche, senza dimenticare quella della scarsa condivisione. Da domani i cittadini di Barletta scopriranno il salasso, perché l'amministrazione Cannito ha deciso di aumentare le tasse. L'IRPEF aveva la possibilità addirittura di ridurre l'Atari ha deciso invece di aumentare, di investirli sulla spesa corrente, di aumentare la spesa corrente. Io ritengo che sia stato un autogol clamoroso. L'amministrazione Cannito a parole si dimostra sensibile, ma è dei fatti, ha iniziato già a prelevare nelle tasche dei nostri concittadini. Non è riuscita ad individuare relativamente al piano trenale dei lavori pubblici, per esempio io ho menzionato più di una volta lo stadio dello Simeone, che sono dieci anni che vive in uno stato veramente, a mio modesto avviso, di abbandono. Stessa cosa per lo stadio Puttelli, la rimozione delle gradinate doveva avvenire un mese fa. A distanza di più di 30 giorni il sindaco ci ha detto che probabilmente si inizierà il mese prossimo. Un giudizio che non può essere sicuramente positivo, un bilancio ingessato, senza spazi di manovra. Noi abbiamo chiesto da subito che il piano esecutivo di gestione, che poi è quell'atto che effettivamente va a determinare dove vanno le poste di bilancio e cosa si fa con i soldi dei cittadini, sia pubblico, sia partecipato, sia soggetto al vaglio dei cittadini, delle commissioni consigliari e dei consiglieri. Abbiamo chiesto all'amministrazione che noi possiamo metterci mano e quindi contribuire alla scrittura di questo piano esecutivo di gestione.